talento o metodo questo per alleanza non è mai stato un dilemma per la rete dei consulenti alleanza non può esistere talento senza metodo ed il metodo è un elemento essenziale del talento nella logica della continua ricerca dell'eccellenza nell'applicazione del metodo cominciano gli incontri digital care planning l'ultimo elemento che completa il metodo digital care digital il nostro modo di lavorare care il nostro metodo commerciale planning il nostro approccio per raggiungere gli obiettivi il processo di digitalizzazione con l'introduzione di profilo e dialogo permette alla rete di lavorare al meglio con i clienti attraverso un'experience digitale di grande qualità il digital care planning è un ulteriore passo in avanti per la gestione manageriale per ottimizzare i livelli di attività e di successo della rete digital care planning è infatti la sintesi delle attività della rete alleanza volte a fissare i propri obiettivi e pianificare l'attività commerciale per raggiungerli ottimizzare l'attività propria e dei propri collaboratori attraverso l'analisi puntuale dei profili e alla ricerca della soluzione più aderente migliorare la qualità dell'attività commerciale attraverso il coaching con i colleghi per il futuro mi aspetto che questi strumenti possano essere utili per la mia rete i miei collaboratori per poter svolgere al meglio quello che sono le proprie attività giornaliere poi l'obiettivo è di essere incisivi ma di guidare tutti i nostri collaboratori in maniera più efficace penso che questo tipo di pianificazione commerciale ci aiuterà questo credo che digital care sia lo strumento essenziale per programmare al meglio la nostra attività sia da un punto di vista di approccio quantitativo ma soprattutto qualitativo il grande vantaggio di profilo e dialogo è quello di avere sempre disponibile il profilo del cliente e di poter rispondere immediatamente alle sue esigenze obiettivo delle sessioni di business simulation è quello di avere per l'autunno tutti gli strumenti e soprattutto le competenze disponibili per avviare la diffusione su tutta la rete più che una diffusione un vero e proprio contagio positivo delle altre agenzie che saranno coinvolte gradualmente secondo una modalità virale da parte dei colleghi formati durante gli incontri digital care planning il team definirà le priorità di coinvolgimento delle risorse pronte per il percorso digital care planning e il modo migliore per istruirli e coinvolgerli sul metodo soprattutto con l'affiancamento sul campo per continuare a lasciare il segno